con il forfè dei Gunners la Lazio ha matematicamente agguantato il primo posto del girone ed è momentaneamente a più 8 dal Tormarancia per Palombi e compagni questa sera quindi esiste solo la vittoria per colmare quella differenza punti che non farebbe disputare i playoff amici di Fanner, buonasera dal circolo Sport City si gioca la penultima giornata del girone di Serie A2 si affrontano Tormarancia, calcio 8, a caccia dei playoff e Campus Biomedico che deve ottenere punti per non disputare invece i playoff un po' sulla palla alla fine l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca il pallone è conquistato da Palombi conquista anche gli applausi della panchina proprio Palombi che va alla rimessa laterale pallone tra i piedi del capitano che va con il destro va vicino al palo lungo zona d'attacco Alessandri vicino alla rimessa il pallone è dentro per Dascola stacca perfettamente con la testa è 1-0 Campus Biomedico ci pensa il centro avanti a portare i suoi in avanti 1-0 battuta la rimessa laterale Palombi allarga sulla corsia di destra sale Valentini il pallone centrale per Capitana Palombi che vuole trovare lo spazio per calciare va con il destro ancora una volta centrale ancora una volta attende lì Lombardi lo spiomedico che fatica a superare il centrocampo in questi ultimi minuti qui c'è il fallo di mano batte Palombi velocemente ha sorpreso tutti anche noi e c'è 1-1 il gol del capitano la rincorsa di Capitana Palombi che si ferma spiazza Lombardi e fa 2-1 sono due le reti del miglior marcatore del Tormarancia che si porta 24 in stagione è 2-1 Valentini Demofonti può avanzare sulla sinistra Palombi pericoloso farlo girare da lì parte ancora Palombi Palombi con il destro con i piedi è bravissimo Lombardi a dirgli di no calcio di punizione Ferreri sul punto di battuta D'Ascola un po' di libertà al limite dell'area poi Ferreri calcia con il destro e colpisce il palo e lo trova perfettamente rientra sul destro sempre italiano due uomini davanti a lui le finte del numero 7 che non trova spazio cambia quindi Corsia il destro a cercare la testa di Palombi che arriva con un pizzico di ritardo Alessandri Alessandri passa in mezzo a due avversari la d'Ascola che calcia con il destro Diana la tiene lì si gira bene può ripartire il Tormarancia e c'è il fallo qui su Dinoto cartellino giallo è il secondo quindi abbandona il terreno di gara calciare più lontano che può poi spazza in rimessa laterale il Tormarancia arriva il triplice fischio del direttore di gara il Tormarancia calcio 8 vince in rimonta sul campus biometico grazie alla doppietta di Capitana Palombi e resta meno 5 dalla Lazio grazie a tutti grazie a tutti